Per l'anno accademico 2018-2019, l'Università dell'Aquila, su impulso della professoressa Teramana Lia Ginaldi e con il sostegno della Fondazione Tercas, ha istituito il Master di secondo livello in Medicina e Salute di Genere. La Medicina di Genere si prefigge il raggiungimento dell'eguaglianza tra uomini e donne anche nella cura, nella protezione della salute e di fronte ai servizi sociosanitari. A presentare il Master a Palazzo Melatino è intervenuta Alessandra Carè, direttore del Centro di Medicina di Genere dell'Istituto Superiore di Sanità. La Medicina di Genere non vuole essere una nuova branca medica, ma un nuovo modo di affrontare tutte le specialità già esistenti, quindi un occhio alle differenze tra uomini e donne in tutte le situazioni fisiologiche e patologiche generalizzate. Adesso, con l'approvazione della nuova legge, legge 3 2018, approvata la scorsa settimana dalla conferenza Stato-Regioni, assisteremo al reale avvio dell'applicazione della medicina di genere sul territorio nazionale. Non è solo un progetto, in realtà è una realtà che risponde a un'esigenza legislativa, quindi noi abbiamo la necessità di dover formare non solo i nostri studenti, ma anche chi nel passato non ha avuto l'occasione di conoscere questa realtà. La medicina di genere è una sfida tecnologica, non è solo il cercare di riconoscere le differenze che ci sono tra uomo e donna, non è solo quello di capire come poter intervenire sulle patologie neglette, che sono poi a volte misconosciute proprio perché non caratterizzate all'interno della differenza di sesso, ma è un progetto scientifico di eccellenza. La fondazione Tercas dedica attenzione alla medicina di genere ormai da 10 anni. Nel 2009 e nel 2011 la fondazione finanziò due progetti sulla salute della donna, proposti dall'Università dell'Aquila e dall'Asla di Teramo e realizzati nell'unità operativa complessa di immunologia clinica dell'ospedale Mazzini, sede della relativa scuola di specializzazione diretta dalla professoressa Ginaldi. Ha avuto la fondazione una particolare sensibilità in un settore che oggettivamente oggi sta dando una grande rilevanza. Qui a Palazzo Melatino è una bella giornata, oggi stiamo vivendo perché sono presenti grandi personalità nel mondo della medicina di genere e soprattutto avviamo questo progetto di formazione relativamente a un master sulla medicina di genere. Un master che la fondazione ha ritenuto di poter finanziare in larga parte, consentendo quindi a tutti coloro, medici e paramedici che fossero particolarmente interessati, di avere un contributo.